Anche lei quest'oggi ha consegnato le onorificenze 15 mesi in cui tutti sono stati in prima linea, regione compresa. Sì, stiamo svoltando questa bruttissima pagina, a fine mese di giugno arriveremo all'inoculazione di un milione di dosi, almeno della prima dose, e quindi guardiamo il futuro senza l'ansia dei mesi precedenti. Oggi tra l'altro iniziano anche le somministrazioni per gli studenti? Sì, nella revisione del fabbisogno di vaccinazione avevamo visto che in questa settimana avevamo circa 15.000 dosi nelle farmacie e abbiamo pensato appunto di chiudere a partita il target dei maturandi che possono andare comunque a sostenere gli esami con una condizione di maggiore sicurezza. E poi si proseguirà senza limiti di età? Sì, penso che dal giorno 6 apriremo lo slot per tutte le persone che vorranno vaccinarsi e appunto siamo in grado a questo punto nelle prossime settimane di arrivare alla fatidica soglia dell'immunizzazione di massa di un milione di persone. Quindi questo è un traguardo fondamentale che ci porta ad essere una delle prime regioni ad aver immunizzato, diciamo così, la stragrande maggioranza dei cittadini. Quindi invito tutti a vaccinarsi, invito tutti a prenotare il vaccino perché poi dovremo proseguire nei prossimi mesi con gli studenti. A settembre dobbiamo riaprire le scuole con tutti gli studenti iscritti ai corsi che abbiano appunto ricevuto una dose di vaccino.